Marina di Schiavonea 1, Rossanese 0. Siamo con mister Vincenzo Pacino, allenatore del Marina di Schiavonea. Una partita, come dicevamo anche con mister Aloisi, giocata a visa aperta da entrambe le squadre. Avete vinto voi, forse, per la fame, per la volontà che avete di mantenere questa importante categoria? Hai detto bene. Abbiamo cercato di vincere questa partita in tutti i mondi. Ci siamo riusciti, siamo stati bravi a concretizzare nel primo tempo l'occasione che ha avuto Zangaro. Mi dispiace che non riusciamo a concretizzare sulle numerose palle-golle che abbiamo a disposizione e poi soffriamo sempre fino alla fine. Oggi avevamo di fronte una rossanese che si è venuta a giocare nella partita a visa aperta, ha cercato di impensierirci. Noi siamo stati bravi a non indietreggiare come è successo magari altre volte, quindi abbiamo tenuto sempre là sopra. Però è una bella partita perché due squadre che hanno cercato di vincere nella Dott.2, noi ci siamo riusciti perché in questo momento forse abbiamo più bisogno di punti rispetto a loro e quindi abbiamo messo più cattivelia in campo e alla fine va bene così. Questo risultato è importantissimo per noi. Grazie!